Adesso ti facciamo una domanda in riferimento a questo vestito, a Dante che è qui che ti intervista. Come te ben sai, nel canto undicesimo del Purgatore viene proprio menzionata la scagnata di San Mignato, che ricordiamo risale proprio ai tempi del 1200 e curiosamente quando Dante arriva nel trentatesimo canto del Paradiso e sta per vedere Dio, chiede l'intercessione alla Madonna, ma per fare questa petizione la fa Bernardo di Chiaravalle, che lì dice proprio, Bernardo m'accennava e sorridea, perché io guardassi Suso, ma io ero già per me stesso tal quale volea. Ora, Dante era San Bernardo di Chiaravalle, questo Dante ha il suo San Bernardo da San Mignato e ti chiediamo questa cosa. Dato che da Firenze partiranno questi cammini che andranno da qui al Casentino, ma la partenza è nella patria, nella città dove Dante è nato, cosa ne pensi di questi cammini sempre spirituali, perché si va nei luoghi della commedia, ma anche con un'attrattiva e un discorso culturale. Una tua idea, un tuo pensiero, per favore. Mi sembra un'iniziativa molto bella che possa coniugare da un lato la sete di spiritualità del nostro tempo, dall'altro la consuetude non mai diffusa di praticare tracking, attività sportive, in questa prospettiva che restituisce importanza non solo al corpo, ma anche allo spirito. Quindi se i latini dicevano mens sana in corpore sana, noi possiamo dire spirito sano in un corpo sano. E un luogo come questo è ideale, perché nello stesso tempo era prodo e partenza di innumerevoli pellegrinaggi nel Medievo, tant'è che la Repubblica Fiorentina fu costretta ad aprire una porta proprio per San Mignato, nella sua cerchia muraria più grande, per permettere il passaggio dei tanti pellegrini che salivano verso San Mignato per onorare le reliquie del primo martire. E non a casa, all'interno della Basilica, subito entrando sulla destra un enorme San Cristoforo di mano bizantina, ci ricorda il patrono dei pellegrini. Quindi evidentemente la Basilica era frequentata da chi incontrando l'immagine di San Cristoforo era certo che almeno per quel giorno non moriva. E quindi abbiamo così una controprova iconografica di quanto questo luogo sia caro ai viandanti di tutte le epoche.